Lunedì 28 settembre 2020, buonasera, ben ritrovati. 217 giorni dopo l'ultima partita ufficiale, il Cesena è finalmente tornato in campo, è ricominciata la nuova stagione, ufficialmente il nuovo campionato. Ieri la prima partita sul campo della Virtus Verona, un 1-1 che andremo a leggere e provare nelle pieghe di una partita, per la verità, piuttosto equilibrata, discreta nel primo tempo, un pochino meno divertente nel secondo. Ma insomma campo piccolo, terreno scivoloso, insomma tante anche volendo alibi e poi ne parleremo in una settimana anche in entrata per quel che riguarda il mercato fondamentale. Perché il Cesena deve completare la rosa, si concluderà tra una settimana esatta, lunedì prossimo alle ore 20 avremo la famosa lista ormai dei 24 a questo punto, o dei 22, se il Cesena confermerà il numero di inizio stagione, poi avete seguito certamente, ve l'abbiamo spiegato anche durante la settimana quello che è accaduto con lo sciopero scongiurato, domani ci sarà la ratifica molto probabilmente della Lega Pro per questo momento di due caselle, la conferma del 2011. Insomma parleremo anche di questo, di mercato, con i nostri ospiti, tante curiosità, immagini ovviamente nuove, la nostra top e flop che ritorna con il ritorno ovviamente del campionato e finalmente. Buonasera Federica Mosconi, ciao Luca, grazie, buonasera, tutti voi benvenuti. Bianconera rigorosamente vestita, ti vedo in grande forma, con una sciarpa anche, la facciamo vedere già subito. La mostriamo subitissimo, perché così carichiamo i nostri amici da casa, l'abbiamo fatto comodo tra l'altro nella tundra di Verona ieri perché faceva un freddo incredibile e questa poi per il calciatore misterioso che alla fine è la prima parte. Tentate di indovinare. Sì, a scoprire insieme, numero Whatsapp, vi risponde al centralino La Fede, potete... Prontissima. Sì, risposta poi, per modo di dire, leggere tutte le domande che rivolgeremo tra gli altri, anche a Luca Ricci, buonasera, bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, questa settimana, anzi quest'anno siamo stati un pochino meglio dell'anno scorso, visto che eri avvenuto qua dopo la sconfitta con la vispesa. Doppia sconfitta. È andata meglio, per metterti a tuo agio, però ti ricordo che ieri eri l'unico trentenne in campo nel Cesena. Benissimo. Quindi vedi un po'. A proposito dei trentenni, Giovanni Guiducci, ciao e bentrovato. Ciao, grazie. Superati i trent'anni da un po' di tempo. L'anno è sempre quello, sempre in prima linea, uno dei pochi fortunati che hanno potuto vedere la partita dal vivo. Ieri al minuscolo Gavagnin Noccini, perché insomma, per dopo vedremo anche una piccola clip che abbiamo preparato. È chiaramente cambiato tutto da questo punto di vista, porte chiuse, settore ospiti naturalmente chiuso, qualcuno, alcuni dirigenti, alcuni addetti ai lavori sono riusciti ad entrare, poi vi spiegheremo e vedremo come. Partiamo, andiamo a vedere il film della partita, perché avrete insomma capito, visto, imparato anche dai nostri social, da questa stagione tornano le telecronache di Teleromagna, le differite, ci siamo insomma accaparrati, tutte le differite della stagione, con la nostra telecronaca 22.30 di tutte le domeniche o comunque del giorno della partita, ma nel bouquet ci sono anche le 5 dirette, 5 dirette che lo ripetiamo verranno poi scelte dalla Lega Pro, quindi al momento non siamo ancora in grado di dirvi quali saranno le partite. Andiamo a vedere invece quello che è successo, ieri la sintesi di Virtus Verona Cesena. Vediamo. Sono passati 217 giorni, 7 mesi e 3 stagioni diverse, durante le quali ci siamo fatti spesso la stessa domanda, quando ricomincerà il campionato? La risposta è oggi, domenica 27 settembre 2020, il giorno tanto atteso, si può partire, buon campionato a tutti dunque, iniziata la stagione 2020-2021. È pronto l'ex Reggiana, con le mani, Russini, Favale, il cross prova a rovesciare dalle parti di Capellini, va sull'ascensore, il numero 15 Amadio, lo anticipa. Poi Munari, uno contro uno con Manconi, ancora Munari in questo derby tra 2.000, ancora fino in fondo il cross, basso a Bortolussi! Al primo colpo di testa, arriva il primo gol con la maglia del Cesena di Mattia Bortolussi, è un super gol! Virtus Verona 0, Cesena 1, la sblocca lui. Arriva il fisco dell'arbitro, il cross basso, qui liscio, Dante, 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 Satalino, miracolo! Pressing di Munari, ancora Manconi, cerca il cross, è interessante, il colpo di testa di Cazzola, palla alta! Visentino intanto, a lunga gittata per Marcandella, buono il tocco, buono il cross, sul secondo pallo, Munari di testa, lascia sfilare. Poi Manconi con il destro, c'è una deviazione, c'è soprattutto Giacomo Satalino, fischia l'arbitro, Petterman dentro, c'è un tocco! Poi Ardizzone, Ciofi! Fallo però, fallo annullato il 2-0 del Cesena, un fallo in attacco probabilmente di Ardizzone. Poi azione da rivedere. Il cross dentro, pallone per Marcandella, diagonale! Super goal di Marcandella, ingenuità colossale per il Cesena e arriva il pareggio della Virtus Verona, 34 sul cronometro. È pronto Dante, è pronto anche l'arbitro, il fischio di Milone. Va Dante con il destro, morbido, copro di testa di Ciofi ad allontanare. Poi Marcandella, ancora lui! Pallone alto, applausi! E con le mani, Amadio, esterno, sinistro, basso. Il cross con l'oculo, attenzione ancora Marcandella, prova a caricare il destro. Poi da Fara, lo carica lui! Pallone che si abbassa, minaccioso, improvvisamente. Visentin, sparacchia dalle parti di Pittarello, poi Dante, lo scambio, il taglio di De Marchi. Attenzione all'inserimento di Pittarello, che libero, bravissimo De Marchi, chiama in avanti anche Cazzola. Poi Marcandella, molto bene qui la Virtus. Ancora Marcandella, tiro cross! Con i pugni Satalino, Ciofi. Porta avanti il pallone, il difensore ex Primavera Roma. Nanni intanto al limite, Nanni dentro l'area, Nanni con il sinistro! Prova il diagonale, buona chance, buono spunto. Ciofi, 1-2-3, gioco, partita incontro, finisce qui. Debutto in campionato da un punto per il Cesena. È 1-1 al Gavagnin Nocini, il risultato finale. Cesena avanti al minuto 8, con il colpo di testa. Primo gol in bianco-nero di Mattia Bortolussi. Il pareggio per la Virtus Verona al 34esimo. Queste le immagini della partita di ieri. Il primo gol con la maglia del Cesena di Bortolussi. Insomma, ha bagnato l'esordio nel migliore dei modi. Un tiro, un paio di tiri concessi dall'avversario. È arrivato questo bellissimo gol di Marcandella. Un secondo tempo, invece, bruttino, Luca. Questo lo possiamo dire. Alla fine, il tuo riassunto, qual è? Il punto che ci sta? Ti aspettavi qualcosa di più? Poi sentiremo anche Viali, che ha parlato di alzare l'asticella. E se si vuole alzare l'asticella, queste partite vanno vinte. No, penso che il riassunto finale sia quello di un punto guadagnato. Perché quando inizia una stagione, dopo tanti mesi, comunque bisogna portare a casa qualcosa. E partire con un certo entusiasmo. Perché ci ricordiamo l'anno scorso, dopo un grande precampionato, due sconfitti iniziali, ci hanno messo un attimo nel baratro da un punto di vista mentale. Quindi è un punto guadagnato. Capisco il mister, però, perché dopo un primo tempo nel quale, secondo me, abbiamo fatto vedere di avere un'identità chiara, ci aspettavamo anche noi in campo, il secondo tempo, di poter fare qualcosa in più e andare a vincere. Però, onestamente, l'aspetto mentale e fisico comunque un po' appagato. Quello che ne è venuto fuori, secondo me, è un buon punto, un punto di partenza. Forse la cosa più difficile contro una squadra che difendeva, praticamente, con tutti gli uomini, come Virtus Verona, era sbloccarla. Comunque andare in vantaggio per primi, no? Perché in caso contrario poi diventava complicata. Poteva diventare la partita dell'anno scorso anche, no? Ci sono state abbastanza similitudini in questo. Ecco, lì eravate riusciti a sbloccarla e anche un bel gol, l'abbiamo visto. Poi è arrivato il pareggio, dicevamo dal vivo con Giovanni, eravamo in tribuna, sembrava da posizione più centrale. Effettivamente è calza dalla linea, praticamente. Cioè, trova un gol quasi irripetibile. Ma io penso che fosse una partita indirizzata sul binario giusto. Sarebbe stato fondamentale portarla sul vantaggio fino a fine del primo tempo e cercare di raddoppiare nel secondo. Però poi ci sono anche le giocate individuali. Secondo me Marcandella ha fatto un grande gol perché la marcatura era anche giusta. Poi ci sono anche gli avversari. Guarda, qui lo rivediamo. Controllo orientato, ho trovato forse l'unico angolo possibile. Né Andrea né Satalino potevano fare nulla. Ci sono anche le giocate di avversari. Succede. Grande gol secondo me. Andrea, cioè Cioffi, che è chiaramente molto meno esperto, un giocatore come te, che ha giocato più anni. Magari farsi sentire un po' di più col corpo o magari al contrario schermare quella lunga rimessa mettendosi davanti con un uomo in più. Quali potevano essere gli accorgimenti? Chiedo come consiglio. Andrea si muove bene, nel senso che comunque la prima indicazione che ti danno in area è non dare l'appoggio all'attaccante perché dando appoggio lui si orienta su di te e si gira. L'ha indirizzato anche verso l'esterno e non verso l'interno. Poi onestamente da una posizione nella quale tante volte si tenta il cross. Lui ha trovato un gran gol. Quindi Andrea secondo me si è comportato bene e non poteva fare diversamente perché comunque anche riguardandolo anche nella gestualità è veramente un grande gol. Certo, forse un passo indietro di Petterman mi pare lui davanti. Sì, l'alternativa potevamo noi metterci in maniera diversa cioè mettere uno davanti ad Andrea però non essendoci in quella situazione arma che poi è un po' quello sul quale si focalizzavano le palle aeree. Ecco, magari abbiamo prestato meno attenzione come purtroppo spesso succede. Ci sono anche gli avversari. Ci sono anche gli avversari e bisogna dargli merito è un bel gol. Certo. Giovanni, hai archiviato questo primo pomeriggio dopo una vita trasferta che addirittura mancava da metà febbraio da Imola addirittura da Trieste fuori dalla regione perché c'erano stati due derby con Imolese e Piacenza quindi si va addirittura alla... quasi un paio di anni fa praticamente. Che partita hai visto tu? Dopo magari approfondiamo anche sul secondo tempo un secondo tempo che ha detto poco. Sì, innanzitutto un risultato secondo me è giusto bisogna dirlo al di là di quelle che possono essere le recriminazioni e i rimpianti per alcuni episodi in particolare naturalmente il gol ha annullato. Un pareggio giusto che come diceva prima Ricci è stato importante per evitare quella cappa di negatività che il Cisina si era portato dietro dopo la falsa partenza dell'anno scorso e in questa occasione invece è stato importante partire con il piede giusto perché soprattutto sarebbe stato molto più grave perdere. Un pareggio importante anche perché visto le tante incognite che ci sono con un campionato che è iniziato senza il consueto rodaggio con alcuni risultati a sorpresa che si sono visti nella giornata di ieri pensiamo tipo alla Triestina al Padua lo stesso Perugia che ha fatto un mezzo passo passo quindi l'importante secondo me era non vincere anche se non si è visto tantissimo però secondo me è un buon punto di partenza. Sì ecco effettivamente magari poi ne parliamo anche più tardi sono stati risultati incredibili tipici forse della prima giornata e questo accade tutti gli anni ancora di più magari amplificati dalla lunga pausa dove Luca ci siamo fatti due mesi di divano tutti insomma. Sì infatti sì solitamente la prima giornata è sempre atipica ieri è stato ancora di più infatti tornando in spogliatoio quando ho guardato i risultati non me li aspettavo soprattutto da squadre esperte come magari può essere il Padua che è vero il lockdown è vero l'assenza del campo di gioco ma un giocatore esperto comunque deve sempre avere un approccio secondo me importante e ci sono alcune vittorie come quella senza nulla toglia l'immolese ovviamente però sul campo del Padua la sconfitta della Triestina insomma nonostante il lockdown e i sette mesi di assenza non me li sarei mai aspettati. Assolutamente. C'è stato anche un episodio che nel primo tempo ha fatto un pochino discutere l'abbiamo introdotto e l'abbiamo tra l'altro visto nella nostra sintesi è quello che poteva cambiare definitivamente la partita comunque fare pendere decisamente il campo dalla parte del Cesena questo il gol annullato proviamo a vederlo le immagini non sono proprio chiarissime al 100% sicuramente è molto chiaro l'arbitro nel senso che arriva proprio con uno scatto da 100 metrista vero ecco qua la punizione è sul fallo o un presunto fallo di ardizione su questo siamo tutti d'accordo perché l'unico contatto è quello si parlava o meglio di fallo di mano giusto? Sì la spiegazione che ci ha dato è quella ma rivedendola non c'è l'unico dubbio può essere il fallo di ardizione ma mi sembrano due giocatori che arrivano in corsa il difensore avversario è già un po' in caduta per difendere la situazione ecco l'unico potrebbe essere diciamo un'entrata robusta di ardizione poi da qui a dire fallosa non lo so il fallo di mano ricordiamo in caso di segnatura di un gol basta toccare con la mano insomma in qualsiasi modo la palla e il gol viene annullato questa è la regola quindi non conta se il braccio è largo più largo meno alto meno basso eccetera eccetera qui il problema è che non viene minimamente toccato con il braccio quindi assolutamente da questo punto di vista non può essere fallo può essere magari considerata fallosa la spallata è chiaro che cambiava cambiava tutto eh sarebbe stato un 2-0 se non sbaglio intorno al trentesimo minuto quindi la partita si sarebbe messa su un altro binario rivedendole il dubbio il dubbio rimane assolutamente anzi forse voglio non rivederle più perché sembra un buon regolare esatto esatto comunque insomma sono episodi che possono capitare fanno parte della dinamica della partita un arbitro tra l'altro arbitrato bene esordiente molto giovane molto giovane secondo tempo Giovanni poi abbiamo una scheda nella terza parte la vedremo perché il Cesena era veramente giovanissimo scherzavamo con Luca l'unico trentene dopo il forfè di Caturano tuo malgrado davvero con l'impatto di alcuni ragazzi anche interessante mi viene in mente Nanni nel secondo tempo San Marinese dopo Bonini sì dopo Bonini sì un secondo tempo sì che forse inevitabilmente forse era atteso c'è stato anche un evidente calo fisico penso ad esempio è un po' calato di ritmo soprattutto quello che è un po' considerato che deve essere il perno della squadra come Peterman e quindi naturalmente questo un po' il Cesena ne ha sofferto ma un po' in generale ma come dicevamo prima questo può essere anche spiegabile visto tutto il contesto che abbiamo detto più tante volte sì l'ingresso di Nanni è stato positivo al di là dell'occasione probabilmente forse non ha calciato neanche con il suo piede preferito però comunque l'occasione se l'è creata si aveva apparecchiato bene la tavola esatto sì è andato al tiro non è riuscito a chiuderlo troppo sarebbe stato veramente una grossa soddisfazione sia per lui che per tutti però sul comprenuto è un giocatore che come diceva l'allenatore ieri ha delle caratteristiche sue peculiari che lì davanti potrebbero essere utili per le sue caratteristiche per la sua stazza fisica forse un po' unica per il momento nel reparto avanzato mi dici chi ti è piaciuto di più e chi ti è piaciuto di meno tranne la discussione di Ricci chi mi è piaciuto di più ma adesso mi è piaciuto soprattutto vorrei premiare soprattutto il Gess il gol di Bortolussi al di là della prestazione che in realtà non è stata una grandissima prestazione però spesso si dice per un attaccante è importante fare gol fare quei gol lui quel gol l'ha fatto un gol veramente da attaccante perché è saltato molto in alto una palla gol un gol in media non è male non è male secondo me è sufficiente per dargli un ottimo voto un voto diciamo al di sopra di quello che sarebbe la sua prestazione quindi era importante soprattutto in assenza di Catturano e dunque direi lui anche se poi tra l'altro si era definito in conferenza centravanti atipico lo aveva ribadito anche Zebi atipico e anche così multiforme se vogliamo perché ha fatto il riferimento centrale l'esterno a destra l'esterno a sinistra e la punta nel 4-4-2 finale con Nanni direi che da questo punto di vista insomma il Cesena ha trovato un giocatore non so Luca tu l'avrei marcato in qualche parte io ho mancato no ma anche quando era Luca l'avversario io ero a Carrara e mi aveva fatto gol ovviamente nel dubbio da gran signore ovviamente nel dubbio no è un giocatore funzionale perché può è un attaccante atipico perché è un attaccante da chilometri di movimento un generoso uno che si muove per la squadra sa ricoprire più ruoli quindi poi ieri fra l'altro ha fatto un gol da attaccante d'aria di rigore però conoscendolo proprio come giocatore ha caratteristiche importanti da difensore mi fa piacere quando vedo un attaccante correre è un piacere poi lo possiamo dire parlando di numeri 9 e facendo un confronto con la scorsa stagione i due numeri 9 dello scorso anno e i due numeri 9 di quest'anno beh insomma un saltino è stato fatto direi anche notevole sulla carta il Cesena parte con una coppia di attaccanti veramente di massimo livello sicuramente adesso ancora gli altri non li abbiamo visti ma sulla carta sono sicuramente tra la coppia delle migliori del campionato il problema fosse in attacco magari forse ne parleremo dopo magari come gli esterni ma questo è un altro discorso però come due attaccanti sicuramente il Cesena ha puntato tantissimo sugli attaccanti cosa che magari in altri anni non faceva in modo così vistoso e per il momento il primo ha già segnato l'altro lo aspettiamo con ansia di vederli in campo a fianco a Bortolussi eh sì poi due notizie anche su Catturano ci fermiamo per qualche istante poi anche le vostre domande a tra pochissimo a tra poco Enologica Sippi di Lugo di Romagna da più di 50 anni al servizio di produttori vinicoli e alimentari specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione conservazione e imbottigliamento dei vini conservanti per industria alimentare detergenza industriale reagenti e strumenti per laboratorio raccorderia in acciaio inox tubazioni per alimenti vincitori del premio Enotri ad oro l'Enologica Sippi di Lugo di Romagna garantisce la massima serietà e competenze fidatevi della nostra esperienza Enologica Sippi Allora quando siamo entrati ieri allo stadio abbiamo visto la distinta Catturano in panchina per un attimo ci siamo insospettiti poi qualche dirigente ci ha spiegato che c'era stato qualche problemino fisico cosa è successo? Dacci un dietro le quinte di quello che possiamo poi abbiamo ricostruito un po' la situazione però vista da un compagno ma no semplicemente venerdì durante le pali inattive ha sentito tirare e quindi muscolarmente l'adduttore sì l'adduttore e quindi ha fatto esami strumentali negativi però comunque sono situazioni sempre al limite soprattutto quando si tratta di infortuni muscolari e giustamente rischiare un giocatore così importante la prima giornata con un campo molto scivoloso sì molto scivoloso sarebbe stato da pazzi quindi nulla di grave ma è stato quel famoso prevenire meglio che curare perché dopo onestamente si rischia un conto se ti trovi a giocare partite verso marzo-aprile allora ok vale tutto ma adesso onestamente sarebbe stata una mossa troppo rischiosa certo è la stessa versione che conoscevamo anche noi effettivamente quella reale no certo assolutamente sì esami strumentali venerdì nessuna lesione tamponi negativi il covid non c'entra e domani insomma ricominciate ad allenarvi e ci sarà anche Caturano poi naturalmente va valutata l'evoluzione della settimana è quello che potrà accadere insomma però al momento non è scattato non è suonato l'allarme poi vedremo Fede prima di sentire le parole di Viali sentiamo le due domande sì diverse le considerazioni sulla partita partiamo dall'amico Nicola buon risultato ma squadra incompleta mancano almeno quattro giocatori esperti di categoria Peterman ha una buona visione di gioco davanti più movimento e poi Christian nel pari giusto poche occasioni da gol gara equilibrata Piero partita poco interessante anche Massimiliano sostiene che sia stata una partita noiosa senza occasioni ma Angelo invece ritiene che un punto fuori casa sia un buon inizio beh sì di sicuro almeno io la vedo così era fondamentale non perdere ieri anche per forse il poco pochissimo fascino che aveva la partita i sette mesi tutta una serie di considerazioni non dimentichiamo l'abbiamo ricordato anche in telecronaca la Virtus Verona si era preparata in modo molto diverso dal Cesena al di là del mercato e questo va detto perché non è stata certamente un avvicinamento una marcia di avvicinamento uguale il Cesena ha avuto il problema di campagna i 14 giorni di isolamento e soprattutto l'impossibilità di fare amichevoli la Virtus ne ha fatte sei insomma eh vuol dire l'azzeramento degli alibi è fondamentale nel nostro mestiere però ci sono dati di fatto dati di fatto oggettivi come questi che non possono non pesare perché noi abbiamo fatto comunque un amichevole con l'Immolese dividendoci massimo 45 minuti a testa siamo arrivati a Fano nel secondo tempo con la Berretti esatto siamo arrivati a Fano altamente incompleti abbiamo cercato di mettere minutaggio ma poco di più le altre squadre proprio per il fatto di non aver fatto quarantena hanno tutti quanti fatte almeno 5 o 6 amichevoli di media quindi onestamente questo è stato un problema non da poco poi mettiamoci che per la situazione particolare comunque il mercato è ancora in divinire quindi vuoi o non vuoi tanti giocatori da noi stanno arrivando adesso quindi la squadra è in completa costruzione quindi per questi motivi non è una questione di mentalità perdente anzi perché come ha detto il Ministro a fine gara dispiace non aver vinto perché era il nostro obiettivo però onestamente non scutiamo su questo punto ecco come ha detto il Ministro a fine gara andiamo a sentirlo ascoltiamo che pomeriggio è stato riassumendolo qualche rammarico c'è stato perché nel primo tempo perché come abbiamo comandato il gioco quanto abbiamo costruito e anche il gol annullato del 2 a 0 poteva cambiare nettamente la partita sapevamo che nel secondo tempo non potevamo tenere ritmi come nel primo perché comunque è la prima partita dopo tanto tempo quindi ci dobbiamo prendere la responsabilità oggi che al di là di tutte come dicevi tu le difficoltà che avevamo è una partita che dobbiamo vincere dobbiamo assolutamente cercare di vincere e tra un mese queste partite le dobbiamo vincere quindi se vogliamo crescere dobbiamo prenderci questa responsabilità al di là di tutte le attenuanti del caso ecco hai provato esatto a metterci un po' le mani nel secondo tempo hai chiuso con una sorta di 4-4-2 avvicinando le punte c'è stato qualche guizzo promettente anche da parte di Nanni che è stata un po' la carta sorpresa che è estratta dal mazzo e l'occasione l'unica del secondo tempo l'ha avuta lui è stata anche per me una bella sorpresa è arrivato da pochi giorni ma l'ho visto subito pimpante ci dà una caratteristica diversa dagli altri e visto che il ritmo era basso diciamo così i guizi singoli gli uno contro uno era sempre più difficile perché il campo pesante gambe poche ho cercato magari di trovare verticalità un po' più diretta per cercare magari di andare sulle sulle seconde palle o mettere in difficoltà con una densità più maggiore centralmente questo è stato un pochino siamo anche riusciti abbastanza bene come dicevi tu ho avuto una grandissima occasione il ramarico che il rapporto di occasioni nostra e quella degli avversari non è da pareggio però è chiaro come ti dicevo prima che ce la dobbiamo prendere come responsabilità non può essere un caso nel senso che dobbiamo essere più cinici nel primo tempo per quanto fatto a chiudere la partita ecco colori da quadro di Frida Kahlo in un'immagine insomma bucoica dalle parti di Verona insomma ci siamo un po' arrangiati anche dal punto di vista della logistica ieri ma almeno siamo riusciti a portare a casa anche le interviste mister qui è stato abbastanza chiaro direi parlavamo di Cesena ambizioso è quello che è il messaggio che deve passare senza creare troppe aspettative probabilmente perché poi alla domanda quale sarà l'obiettivo della stagione si dice la partita però il mister è ambizioso di suo giustamente e in più questa è una piazza che per quanto ci possiamo nascondere dietro magari alla realtà di oggi che magari non ci vede fra le favorite questo è innegabile però ci vede sempre entrare in campo con il nome Cesena e mi ricordo le parole del mister nella partita a Michele Collimolese che indicando lo scudetto ha detto questo scudetto in Serie C non può mai perdere perché le aspettative ci sono quindi o mettiamo in campo una mentalità vincente almeno nella voglia di altrimenti diventa difficile perché vuoi o non vuoi contro di noi tante squadre soprattutto quando verranno a Manuzzi faranno la partita quindi se noi non abbiamo un po' di autostima e voglia di vincerle allora diventa difficile certo con la speranza che l'effetto Manuzzi quest'anno torni ad essere un effetto e non un difetto come era lo scorso anno no John perché i numeri parlavano chiaro l'inversione di tendenza va fatta lì esatto si parla tanto del fattore Manuzzi lo scorso anno mi sembra che ne abbia perso 6 il Cesena in casa e poi è mancato mezzo campionale esatto però comunque ne aveva perso praticamente la metà mi sembra non so quanti hanno giocato in casa quindi veramente numeri pesantissimi per il Cesena che deve puntare di più naturalmente è importante fare punto fuori però in casa il Cesena deve fare cominciamo a sfruttare questo effetto che per il momento adesso non ci sarà non si sa quando potrà arrivare anche la possibilità come sapete del 25% per il momento è stata bocciata dal comitato scientifico quindi si andrà avanti ancora per tanto tempo anche con gli utros che quindi non andranno a riempire la curva non so se sarà un effetto positivo o negativo probabilmente si darà un effetto negativo anche se l'anno scorso non è stato così però dopo poi sentiamo anche da Ricci e abbiamo anche preparato una piccola clip per capire un po' come è l'ingresso allo stadio per chi ovviamente può entrare quello che è cambiato di fatto tutto al momento di varcare i cancelli abbiamo un'altra domanda un'altra curiosità Fede la vogliamo leggere in merito alla partita perché Zecca non ha giocato al posto di Cappellini completamente fuori ruolo sì allora Zecca non ha giocato semplicemente perché il Cese è di fatto con la valigia pronta non verrà inserito qualora dovesse partire in lista si proverà ovviamente a al contrario farlo partire in questa settimana ecco quindi si cerca una soluzione in uscita chiaramente per esserci una soluzione in uscita ci vuole anche un acquirente ecco quindi è vero che una squadra può voler cedere a un giocatore ci vuole poi anche qualcuno che lo acquisti però sia Zecca che Sabato e molto probabilmente anzi sicuramente anche Cortesi sono i tre giocatori che dovranno partire l'altro Zammarchi ha riuscito il contratto ed è già partito direzione Campobasso dove ritorna insomma in Serie D prima di chiudere la prima parte andiamo a vedere la nostra scheda riguardante il calciatore misterioso con i nostri indizi della settimana vediamo un po' chi abbiamo scelto questi sono gli indizi l'identikit è il seguente direi piuttosto alto moderatamente grosso il ruolo è difensore non è ricci ovviamente perché insomma il segno particolare è questa curiosità la vedete poi abbiamo inserito due dei club nei quali ha militato diteci nome e cognome del calciatore misterioso firmatevi naturalmente perché vogliamo anche capire chi è il primo intenditore che riuscirà appunto a indovinare il numero lo vedete la sciarpa pure esatto tentate perfetto tentate avete tempo anche durante la nostra pausa ci fermiamo per qualche minuto poi torniamo perché abbiamo altre curiosità tra poco a tra poco ristorante pizzeria rugantino unico a cesena a ristorante rugantino troverai un ottimo servizio una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura a rugantino potrai gustare specialità di pesce specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali ristorante rugantino grazie di esistere eccoci di nuovo insieme la seconda parte di pianeta bianconero vi diciamo subito ecco sì Federica che sta riponendo vediamo che si muovevi con la sciarpa no perché ci sono diverse domande non è chiara la questione della differita della partita quando ci sarà quando sarà la messa in onda esatto non cambia di fatto nulla cioè che il cesena giochi in casa gioca fuori non cambia nulla quando ci saranno 5 partite che verranno trasmesse in diretta tutte le altre compreso ovviamente le dirette andranno anche in differita del giorno in cui si disputa la partita al pomeriggio quindi alle 22.30 l'esempio domenica prossima il cesena giocherà in casa con la tristina alle ore 15 se non sbaglio e alle 22.30 su Teleromagna andrà la partita regolarmente quindi insomma potrete vedere anche la prima in casa l'altra domanda perché ho soviocciato è allo stadio domenica si potrà andare eccetera noi ci rimettiamo a quello che ha dichiarato qui il presidente Patrignani la settimana scorsa lunedì al termine dell'assemblea dei soci ovvero che i biglietti d'ingresso verranno destinati solo a sponsor o comunque istituzioni ad invito quindi non sarà di fatto aperta la prevendita poi dovesse cambiare qualcosa dovesse esserci altre comunicazioni eccetera ovviamente il cesena informerà crediamo durante la settimana ma al momento le parole sono quelle del presidente eviteremo aggiornarci esatto ci aspettiamo che alla fine andrà così a proposito di restrizioni a proposito di calcio ai tempi del coronavirus di novità e soprattutto insomma di questi ingressi contingentati e purtroppo di porte chiuse abbiamo girato una piccola clip per farvi vedere il contorno l'ambiente quello che è successo ieri proviamo a vedere siamo davanti allo stadio gavagnino cini di verona sono le 16 e 30 tra un'ora esatta comincia il campionato del cesena virtus verona cesena è la partita è una partita a suo modo storica se vogliamo perché è la prima partita post covid o comunque il calcio ai tempi del coronavirus allora tra poco vi faremo vedere quali sono diciamo le nuove regole il nuovo protocollo le regole da rispettare ovviamente con mascherina in mano o meglio con mascherina indossata la prima procedura davanti all'ingresso è molto semplice la compilazione prevede il protocollo la compilazione di un'autocertificazione dove ovviamente vengono dati tutti i dati personali eccetera poi all'ingresso è prevista la misura della misurazione della temperatura con uno steward di fatto obbligatorio per poter entrare all'interno perfetto la temperatura è corretta e allora si può proseguire all'interno del percorso segnalato dagli steward qui della Virtus Verona con posti assegnati andremo a vedere all'interno quello che accadrà all'interno dello stadio ovviamente l'accesso è riservato solo ad alcune parte dirigenziali insomma del Cesena della Virtus Verona qualche osservatore procura federale osservatore degli arbitri e questa la tribuna stampa come vedete posti inutilizzabili sono i due al centro invece c'è il posto riservato alle varie testate quindi distanziamento obbligatorio mascherina obbligatoria e chiaramente stadio chiuso queste le norme che accompagneranno almeno fino alle prossime settimane il campionato di Serie C aspettando poi ovviamente ulteriori novità questo un po' insomma brevemente dal punto di vista dell'ambiente quello che è accaduto accaduto ieri poi avete visto probabilmente riconosciuto anche la cavia che si è sottoposta alla misurazione della temperatura tutto regolare il nostro Giovanni e insomma avete visto il gruppo dirigenti alcuni soci c'era il direttore sportivo ovviamente naturalmente anche Moreno Zebi poi ci aspettiamo accadrà praticamente la stessa cosa anche al Manuzzi e comunque in tutti gli stadi questo il fuoricampo io voglio sapere però dentro al campo Luca quali erano le sensazioni dopo sette mesi uno stop di fatto che per un calciatore professionista non ha precedenti neppure quando ci si rompe un crociato forse un tendine rotulio al massimo ma neanche come stavate prima la rifinitura l'avvicinamento è vero che a Verona in questo campo porte chiusi e aperte cambia poco anche se l'anno scorso c'erano 350 tifosi ci racconti un po' beh innanzitutto differenziando una è la preparazione alla partita è stata particolare infatti abbiamo fatto una rifinitura non buona il ministro si è arrabbiato ma eravamo quasi bloccati perché come hai detto te dopo sette mesi manca qualcosa e anche io forse sono uno dei giocatori più esperti ti manca anche qualcosa nell'abitudine nella preparazione quindi eravamo nervosi abbiamo perso tanto dal punto di vista nervoso perché sette mesi sono tanti e neanche un infortunio ti porta via così tanto tempo anche perché un infortunio comunque ti porta ogni giorno avere un obiettivo una ripresa mentre noi non ne abbiamo avuti da un punto di vista del porte chiuse è vero ieri è una situazione particolare perché è un campo molto piccolo anche se avendo giocato lì l'anno scorso proprio contro la Virtus mi ricordo il settore ospiti era pieno si sentiva si sentiva e c'è già stato un minimo di percezione di vuoto la situazione difficile verrà sicuramente domenica perché vedere il Manuzzi il Manuzzi vuoto avrà un impatto almeno per me che l'ho visto pieno avrà un impatto molto molto forte quindi da quel punto di vista dovremmo trovare veramente le motivazioni nervose per affrontare una partita di campionato che sia una partita di campionato vera perché poi nessuno ti aspetta e non è un amichevole quindi sarà questo il passo più difficile poi a volte parlando con chi gioca magari professionisti a basket o a pallavolo e spesso cambia il palazzetto si dice le misure dei punti di riferimento le luci per il calcio magari è un discorso diverso però ti chiedo ecco proprio questo cioè il giocare con il pubblico e senza pubblico tu hai mai giocato senza pubblico adesso parte ieri mi è successo a Carrara perché c'era un problema di strutture quindi per due mesi purtroppo abbiamo giocato a porte chiuse con i tifosi fuori quindi però parliamo può essere una questione di misura anche questa cioè nel senso di non avere riferimenti assolutamente consideriamo un po' come quando uno entra in una casa vuota e la rivede a mobiliare e cambiano proprio gli spazi quindi vedere il manuzzi pieno ti dà una certa percezione di anche da un punto di vista della tua posizione ti dà ti dà una certa sensazione vederlo vuoto un po' come quando magari facciamo la rifinitura ci accorgiamo magari quando facciamo la rifinitura quasi di essere da un'altra parte quindi questo sarà un altro problema che dovremmo che dovremmo risolvere quello dei punti di riferimento tante volte il punto di riferimento in campo dico la verità te lo prendi con un cartellone pubblicitario piuttosto che la panchina da difensore ecco spesso succede quello perché poi magari quindi il portiere devasta il campo il portiere devasta il campo io fisso la panchina o fisso un cartellone pubblicitario come riferimento almeno personalmente anche perché poi il pubblico magari mille più mille meno cioè non sempre si posiziona nello stesso modo domenica puoi contare gli spettatori di fatto perché non può essere mille quindi puoi parlare i nomi e da lì prendi come riferimento nel fuori gioco sperando che non si muovano durante la partita perché siamo rovinati come una difesa di Zeeman e John invece da dentro allo stadio ma fuori dal campo o comunque quasi nei pressi della linea perché lì eravamo veramente a due passi in quello stadietto minuscolo l'effetto la curiosità forse è davvero vedere il Manuzzi come potrà essere perché ieri era la partita meno indicativa da questo punto di vista sì esatto come ha detto per quello lì sicuramente il Nocine Gavagnini è lo stadio più piccolo del Girone è uno stadio a livello di elettantistico come magari abbiamo visto anche negli ultimi anni in Serie D e quindi l'effetto non c'è stato rispetto all'anno scorso certo che se il Cesena avesse debutato a Renato Curi di Perugia naturalmente l'effetto sarebbe stato diverso per tutti naturalmente per loro per il campo e anche noi avremmo avuto una sensazione differente per quel che conta ovvero niente beh basta aspettare dieci giorni per Perugia tanto è è la prossima è la prossima gara ci siamo quindi per il resto però non è che è cambiato tantissimo a parte questa novità di fare le interviste come hai fatto vedere te prima a Bordocampo loro di qua noi di là con questa recinzione stile diciamo vecchia Inghilterra che comunque piacevole beh era meraviglioso il paesaggio era poi adesso vediamo anche l'intervista a Bruttolussi davvero guardiamola subito così vi potete commuovere Bruttolussi allora Mattia Bruttolussi il debutto direi almeno a livello personale soddisfacente crediamo ci racconti innanzitutto il gol sì soddisfacente a metà perché volevamo e potevamo vincerla volevamo portarla a casa l'intera posta in palio però è andata diciamo bene perché ho trovato subito il gol e sono contento di questo e ha messo una gran bella palla Munari e sono riuscito a anticipare il difensore è andata bene una partita complessivamente bloccata forse il rimpianto di averla sbloccata per primi di aver trovato questo pareggio a Virtus Verona un pochino sporco l'annullamento del gol e poi magari nel secondo tempo vi siete un pochino appiattiti anche tu hai cambiato diverse posizioni hai fatto più fatica a trovare il campo sì sapevamo che sarebbe stata una partita non facile abbastanza difficile quindi era una partita sporca e l'abbiamo preparata molto bene purtroppo siamo passati da un possibile 2-0 che ci hanno annullato all'1-1 poi il secondo tempo probabilmente fisicamente siamo un po' scesi di livello ma penso che ci possa stare che idea ti sei fatto della squadra ancora in divenire ovviamente e che sensazioni del debutto sensazioni positive siamo una squadra che secondo me è la cosa fondamentale penso sia vista oggi che diamo tutti noi stessi per cercare di portare a casa il risultato e penso che questa sia una gran cosa siamo già un passo avanti l'importante è continuare a lavorare e mettercela tutta ogni domenica ecco tranquillizziamo il dermatologo di Bortolussi il ragazzo sta bene perché vedendo le immagini insomma i colori erano abbastanza particolari ma il ragazzo sta bene qualche messaggio? allora Luca una curiosità ricorrente al momento è quella relativa alla fascia da capitano a Luca lui eh sì Luca ti spetta di diritto? in molti vediamo la cascata la domanda pugente non è preparata non è preparata veramente possiamo dare anche qualche nome no 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 veramente in tanti lo stanno scrivendo no la verità vabbè la fascia è un privilegio questo non lo nascondo però il mister è stato chiaro giovedì scorso ci ha parlato avanti a tutti ha detto che per lui il giocatore più rappresentativo e lo capisco sicuramente tecnicamente è Catturano perché ha fatto sforzi importanti per venire qui e questa è la verità perché ogni giorno che vedo Sassà in spogliatoio dico tu sei matto perché perché ha lasciato tanto per venire qui questa è questa è la verità la fascia è un privilegio ma me l'aspettavo non sono Maldini non mi aspetto la fascia non sono nessuno sono cresciuto qui ci tengo tutti sanno quanto ci tengo al Cesena però non mi cambia nulla la prendo col sorriso assolutamente anzi per me è un piacere che sia Sassà e la vivrò la vivo bene assolutamente anche perché devo essere un esempio di umiltà ci può essere esempio anche senza no bisogna esserlo assolutamente fascia o non fascia quindi io devo essere un ragazzo umile di 31 anni che arriva in spogliatoio e dà una pacca sulle spalle al compagno più giovane aiuta chi ha bisogno cerca di trasmettere con il sorriso almeno questo è il mio carattere anche nei momenti di difficoltà e anche di trasmettere cos'è Cesena perché non nascondo sono cresciuto qui so cosa sono certi valori ecco quindi io voglio essere quello tutti i giorni poi fascia o non fascia tanti me l'hanno chiesto in questi giorni ma assolutamente non è un problema perché non sono e non sarò mai una prima donna quindi assolutamente sassare il capitano e verrà sostenuto in tutto per tutto ovviamente i compiti poi in spogliatoio sono divisi fra tanti ragazzi perché da solo uno non può farlo ma non esiste un problema capitano e chiudiamola qui prima di iniziare te ne faccio un'altra domanda a proposito di capitano perché con un keyway blu vicino alla panchina nella cosiddetta panchina aggiuntiva credo avesse anche i guanti o qualcosa nelle mani non so cosa fossero perché dalle immagini non l'ho ben capito però dalla mascherina l'ho riconosciuto che effetto ti ha fatto vedere De Feudis vestito come Antognoli come Medri come tu che sei lo dico è scherzo ovviamente perché siete oltre che vicini di casa legatissimi fra me e lui c'è un rapporto per me è un fratello maggiore ma lo è per tutti perché è una persona unica l'impatto è stato forte dico la verità avevo cercato di prepararmelo ma il primo giorno vederlo con la maglietta azzurra col fischietto è stato difficile è chiaro che quando siamo lì poi gli va dato anche il rispetto giusto di un mister perché lui è un mister in questo momento ci sta trasmettendo la sua visione di calcio legato ovviamente a quella di mister Viali facendo parte dello staff ovviamente non lo nego per me Beppe davanti a tutti lo chiamo mister però non riescono a chiamarlo Beppe fra l'altro c'è un aneddoto della rifinitura di sabato siamo qui a posto eravamo dispari ha giocato e l'ha risolta lui la rifinitura di sabato e con un sinistro a giro quindi ogni tanto dicevi una rifinitura disastrosa che tu prima eh volevo arrivar lì è stata talmente disastrosa che Beppe De Feu di sinistro a freddo l'ha risolta dicendo io sono pronto per essere tesserato e tutti a ridere però questo è Beppe è una persona che sa essere seria al momento giusto ma sa anche sdramatizzare e tuttora faccio fatica a vederlo in blu però so che ha iniziato un grande percorso ed è il percorso che comunque lui avrebbe voluto fare o adesso o fra un anno quindi la vive con entusiasmo ogni giorno di più sta crescendo tanto a quel punto di vista e può darci tanto bene questo è Beppe De Feu noi ci faremo qualche istante poi ancora domande la top e flop soprattutto perché abbiamo alcuni episodi molto simpatici a tra poco l'Alpecimbra di Folgaria Lavarone e Luserna in Trentino è la montagna vicina da non crederci natura storia cultura tradizioni relax e la buona cucina trentina sono gli ingredienti che rendono la tua vacanza sull'Alpecimbra una vacanza indimenticabile e ti invaligio alla tua voglia di vacanza e a tutto il resto ci pensiamo noi buona vacanza sull'Alpecimbra qualità affidabilità convenienza velocità tutto in una parola si dice FAM Batterie Meldola FAM Batterie azienda leader del settore da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia batterie per auto moto veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie con anche il servizio di installazione se vuoi andare sicuro scegli solo FAM Batterie perché l'energia al giusto momento fa la differenza visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online eccoci qua e allora vi dobbiamo un po' di domande perché intanto stanno scrivendo che ero Luca al di là della fascia stanno domandando a Luca il giocatore più forte con il quale è giocato e l'attaccante più ostico che hai frontato eh ho fatto fare gol a tanti attaccati beh onestamente anche se l'ho conosciuto a 38 anni Ciccio Tavano è stato il giocatore più forte con il quale ha giocato perché ho visto delle giocate uniche ho percepito che ha fatto una grande carriera ma poteva fare molto di più quindi a 38 anni ho giocato due anni con lui ha fatto 40 gol in due anni Tavano a Carrara a Carrara 40 gol in due anni a 38 anni non sono da tutti perché è una categoria che è nato al Prato tra l'altro mi pare sì perché comunque è un animo innamorato del calcio e non vuole smettere giustamente però è il giocatore più forte con il quale ho giocato beh attaccante più forte ce ne sono tanti onestamente di attaccanti forti beh sono molto legato tra virgolette siccome è stata la mia partita in Serie A Palacio perché onestamente forse è più un legame affettivo ma comunque penso che il nome Palacio si presenti da solo quindi dico Palacio una domanda te la faccio io poi ancora ne abbiamo da tifoso del Torino che effetto fa sapere che il tuo allenatore è Giampaolo è vero che il contesto non è una porta aperta e forse sei l'unico che è però chiedo vista la buona partenza tra l'altro io da un punto di vista personale non nego mi ha fatto esordini in Serie A mi ha dato tanto quindi non parlo sono un libro aperto quindi io lo stimo so che qui ti volevo stuzzicare come battuta no no ma so che qui non ha avuto un percorso sei contento deduco io sono contento siccome sono circondato da amicissimi tifosi del Toro no loro no però onestamente gli scrivo tutti gli anni per fargli in bocca al lupo ancora gli devo scrivere proprio perché essendo tifoso del Toro non voglio dargli quell'in bocca al lupo che suoni come sveglia capito certo certo però adesso a parte le battute probabilmente ha bisogno un po' di pazienza che non ha avuto di tempo che magari non ha avuto la sua storia dice quando gli è stata data pazienza il tempo ha fatto bene no onestamente ha fatto bene sul percorso a Milan mi fermo perché è durato poco magari non era nel contesto giusto e il Milan senza Ibrahimovic è un po' insomma avrei voluto vedere Pioli senza Ibrahimovic ecco per fare un esempio è un allenatore che ha bisogno di tempo come onestamente altri allenatori non hanno avuto perché ne hanno avuto bisogno ad esempio mi viene in mente Sarri certo io ero ad Ascoli in B il primo anno di Sarri a Empoli era ottobre Empoli penultimo noi vinciamo 3-0 a Empoli già esonerato gli allenatori i giocatori chiedono di non far resonerare dall'iniziato percorso di Sarri Andiamo con qualche domanda mi rivolgo a Giovanni in occasione dell'ottantesimo del Cavalluccio è prevista un'edizione aggiornata dei tuoi mitici almanacchi vuoi là attenzione sì è prevista un'edizione aggiornata so lo so quindi anche la società si sta muovendo in questo senso però naturalmente poi anche la società pubblicizzare queste cose sì il nuovo libro con gli 80 anni con tutti i tabellini tutte le schede dei giocatori con fote rinnovate quindi siamo un po' diciamo in ritardo ma siamo ancora entro i limiti perché naturalmente è il 2020 poi ad aprile non era obiettivamente possibile uscire anche se di tempo ne avevi per prepararlo sì ci siamo preparati adesso aspettiamo diciamo le vacanze natalizie come che è il momento migliore anche per uscire con questi prodotti quindi entro il 2020 sicuramente saremo pronti quindi annuncio ufficiale entro Natale ti tocca sfornare aspettiamo attendiamo ottimo ancora dopo la notizia di stasera dei 14 positivi del Genoa in questo caso come ci si muove cosa potrebbe accadere questa notizia l'ho sentita prima di tesserati del gruppo squadra adesso con uno abbiamo fatto 14 giorni penso che loro con 14 almeno 14 se ne facciano sì Genoa l'anno prossimo no però è chiaro che sono adesso noi scherziamo però che un ragazzo come Campagna che ha certamente stato sfortunatissimo è ancora sta provando a guarire si è fermato nel momento migliore forse per un calciatore del 2000 che rientra che stava facendo la preparazione eccetera l'aria che tira da questo punto di vista cioè mentalmente per voi è uno stress credo importante oltre alla salute lo stress più grande un po' non per passare da inconscienti però siamo persone giovani che stanno bene quindi anche se forse non è giusto dirlo magari la salute personale non è la prima paura anche se poi è sbagliato perché non dobbiamo mandare questo messaggio da un punto di vista comunque dello stress invece il tampone ogni 4 giorni ti prova con lo stress non da poco perché comunque sei continuamente figlio di un negativo positivo che da atleta ti cambia ti cambia la vita perché 14 giorni senza poterti allenare onestamente è una cosa molto pesante come stiamo vedendo con campagna a volte i tempi per quanto tu possa essere asintomatico sono ben oltre i 14 giorni e per un atleta è molto 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 pesante immaginare un ragazzo la prima esperienza tra i professionisti nella squadra della sua città grande occasione infatti dispiace per Francesco perché nessuno ha dubbi che ha fatto le cose giuste anche se cose giuste o sbagliate qui intorno a noi è difficile perché siamo persone che stanno veramente attente ma purtroppo anche se vai a fare la spesa o prendi al volo un caffè non puoi mai sapere cosa succede quindi sicuramente mandiamo un saluto a campagna lo aspettiamo e speriamo che non ci siano altri casi ma è brutto da dire ma muovendoci in gruppo da 50-60 persone pensare che nei prossimi cicli non ci sia mai un positivo è una cosa molto irreale e questa è un po' una preoccupazione andiamo a vedere top e flop siamo pronti torna a grande richiesta la nostra rubrica così ci rilassiamo per qualche istante direi che lo stiamo facendo già da diversi minuti ma va bene quinto posto vediamo un po' vediamo oh torniamo a Gubbio dove eravamo stati inizio puntata Gubbio Modena partiamo con questo tiro diciamo abbastanza non a fil di palo di Peregreffi che così mette a repentaglio il caseggiato dietro la curva ospiti del Barbetti di Gubbio ecco qua stile Valeria Fermo se qualcuno se lo ricorda comunque il classico si dice tiro da difensore via confermi Luca credo io evito di tirare per questo motivo perfetto qui va a lambire il palo al quarto posto invece un gesto anzi due gesti tecnici davvero considerevoli quarto posto vediamo Vispesaro contro la neopromossa Legnago guardate un po' qui il capolavoro di Giacobbe al volo e la grande parata di Pugioni uno più bravo dell'altro lo andiamo a rivedere perché stava per venire fuori il gol della vita ma insomma in porta c'è un signor portiere che tra l'altro lo scorso anno su quel campo in quella porta fece un paio di miracoli proprio contro il Cesena nella prima partita dell'anno del 2020 beh qui direi che stava per venire fuori un gran gol è venuta fuori una grandissima parata a proposito di Baygol andiamo a vedere il terzo posto Padova Imolese 0-1 questo è il gol partita di Lombardi giocatore molto giovane per arrivato in prestito dal Cagliari che caccia questo siluro nell'angolino e così diventa il match winner della partita dell'Euganio uno dei risultati più sorprendenti certo qui chiedo un giudizio a un difensore ormai uscivano dal campo i difensori del Padova nell'aspettare nel rinculare come si dice in gergo diamo la colpa anche il centro capito c'era un barco enorme no onestamente sono usciti un po' tardi diciamo abbastanza collaborativa il Padova possiamo dire così poi bisogna metterla nell'angolino e Lombardi direi che è molto molto bravo con questo gol l'Imole insomma compie uno dei così dell'impresa della giornata sbancando quello che a mio avviso è il campo della squadra più forte poi magari ne parliamo perché parleremo anche della Triestina che è una delle altre squadre di primissima fascia secondo posto titolo direi abbastanza scontato pioggia di gol domenica in Serie C e non solo perché come vedete i monsoni si sono abbattuti anche dalle parti di Avellino questo è lo stadio Partenio e ecco queste sono le immagini che arrivano così all'inizio l'arbitro Longo di Paola da gran signore prova a giocarla non sappiamo per quale motivo sinceramente perché sembra un parcheggio con l'acqua sopra le pozzanghere ecco e poi gentilmente così gli viene il dubbio forse è il caso di smetterla sopra il luogo classico e direi palla che non rimbalza minimamente viene inghiottita dal fondo in sintetico del Partenio e lì si chiude la farsa durata 9 minuti ma insomma un'acquazione abbastanza importante primo posto vi preannuncio di mettere mano al telecomando perché c'è anche un audio importante primo posto Ravenna su Tirol 1 a 2 il gol del momentaneo pareggio del Ravenna è un gol meraviglioso qui vedete con la maglia numero 8 Franchini che ricorderete a Cesena ecco il gol di Sereni guardate un po' qui gol straordinario esulta naturalmente il giocatore tutta la panchina eccetera poi andiamo a rivedere insomma al replay state bene attenti e ascoltate bene l'audio una persona probabilmente un amico un fratello non so però insomma giustamente lo speaker ha enfatizzato il gol fantastico di Sereni dimenticando che si giocava con 300 persone uno però ha risposto dal gran dal gran signore quindi insomma naturalmente scherziamo ma sottolineatura doverosa perché il gol è stato bellissimo poi ovviamente con un paio di pasticche per la gola credo si sia ripreso il tifoso abbiamo un'altra domanda sì l'amico Stefano Davasto per Luca Ricci come ti troveresti in una difesa 3 a chi ti ispiri nel tuo ruolo di centrale difensivo difesa 3 no beh l'ho fatta tanti anni cambia cambia relativamente perché ancora pochi se ne sono accorti ma come stiamo impostando stiamo difendendo a 4 ma stiamo impostando a 3 perché il mista ci sta chiedendo una cosa un po' particolare no è chiaro che se giocassimo a 3 come è successo lo scorso con Modesto un po' l'unico ruolo o almeno il ruolo che ho sempre fatto è quello del centrale dei 3 i due braccetti sono ruoli un po' dinamici non è proprio nelle mie caratteristiche soprattutto lo erano sì sì aveva un modo di intendere il calcio molto dinamico offensivo quindi era un po' lontano dalle mie caratteristiche ma come difensori più che ispirarsi idoli Maldini Maldini è sempre stato il mio pallino da tutti i punti di vista infatti pochi giorni fa chiedevo a Antonioli a Francesco perché lui ci ha giocato e chiedevo un po' che personaggio è perché mi interessa anche un po' come è la persona premiato tra l'altro scorsa settimana dal Panathlon a Cesenatico esatto del nostro amico Dionigi Dionigi l'abbiamo visto forse più in forma adesso di quando giocava è una massa grassa credo 0,3% insomma davvero mosturoso ci fermiamo per qualche istante poi terza parte con alcune curiosità anche sull'età media di ieri perché davvero tantissimi under quest'anno due pillole di mercato e un occhio anche alla Tristina tra poco vi aspettiamo concessionaria Opel Fratelli Magnani ti aspetta a Cesena con un'ampia gamma di vetture nuove e con le migliori offerte a chilometro zero e usate vi accoglierà uno staff di professionisti che vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra auto coniugando al meglio le vostre esigenze di sicurezza comfort e risparmio l'esperienza trentennale con Opel si arricchisce del servizio di manutenzione garanzia e rivendita Hyundai affidati a noi anche per il noleggio della tua auto vieni a provare la tua nuova Opel in via Ravennate 943 Opel Fratelli Magnani il futuro appartiene a tutti Sport Center riparte da noi puoi trovare tutto ciò che ti serve per lo sport e per il tuo tempo libero vieni a trovarci in via Ricasoli 43 a Pieve Sestina per scoprire la nostra vasta scelta di articoli nel totale rispetto delle normative igienico-sanitarie Sport Center eccoci qua di nuovo insieme terza parte di Pianeta Bianconero sempre in diretta con Luca Ricci Giovanni Guiducci e Federica Mosconi che ha assolutamente non dimentico che ha una domanda curiosa ancora curiosa Daniele come altri telespettatori hanno visto diverse persone indossare la mascherina con Luca Ricci l'ha figurato ma ha evviato un merchandising personalizzato no assolutamente mi è stata regalata da un tifoso cioè c'è il volto o tu che giochi sono io che gioco con la maglia del Cesena sì sì con la maglia una foto della scorsa stagione mi è stata regalata prima di partire per Verona lo ringrazio perché per il regalo però io non ho avviato nulla non hai avviato nulla anzi anche perché sei abbastanza impegnato a casa sarebbe inquietante giusto dicevamo la linea d'abbigliamento perché durante la chiusura durante questi mesi insomma eccetera sei diventato papà papà si è nato Leonardo congratulazioni grazie alla notte non si dorma più è bravissimo se capirà che di notte bisogna dormire sarà fantastico perfetto perfetto molto bene andiamo a sentire le parole di Andrea Cioffi dopo la partita di E Andrea Cioffi partiamo da due episodi determinanti nell'arco della partita il gol annullato e poteva essere 0-2 quindi un risultato certamente di diverso e il gol del pareggio con Marc Andella che è stato molto bravo a girarsi e a trovare questa rete si per il gol dispiace ora non ho ancora visto le immagini però sembra che c'è stato un tocco di mano mentre per il gol subito se stava un pizzichino meglio in partenza era evitabilissimo e dispiace per quello poi lui è stato molto bravo però era proprio si poteva evitare tranquillamente una partita che quali segnali ti ha lasciato guarda dopo sette mesi non avendo fatto partite ufficiali era diciamo un'incognita questa partita anche visto che molti ragazzi sono venuti anche questa settimana però secondo me ho sensazioni positive soprattutto per l'atteggiamento che ho visto da parte della squadra il coraggio nel giocare soprattutto il primo tempo quindi ho sicuramente sensazioni positive che so che potremo fare un grande campionato queste le parole di Andrea Cioffi Andrea Cioffi classe 1999 uno degli 8 under pensate un po' con cui Cesena ha chiuso la partita di ieri dopo chiaramente la giostra dei cambi dopo le varie sostituzioni effettuate da William Viali che aveva veramente in panchina a parte Catturano di fatto non disponibile anche diversi ragazzi della Berretti comunque tutti giovanissimi abbiamo preparato una scheda che guardiamo insieme questa curiosità perché sono dati davvero significativi sulla linea verde che riguarda il Cesena quest'anno allora la prima parte ve la spieghiamo riguarda proprio la partita di ieri Virtus Verona-Cesena Cesena che comincia alla palla al centro con un 11 iniziale media età 24.2 quindi già giovanissimo dove la punta dell'iceberg è chiaramente Luca Ricci l'unico diciamo il trentenne in campo e poi 5 under Satalino 99 Munari 2000 Cioffi 99 Favale 98 quest'anno ancora under e Collocolo 99 clamoroso a mio avviso il dato comunque davvero da sottolineare da enfatizzare con cui il Cesena chiude la partita perché di over chiamiamoli così ne rimangono in campo solo tre Ricci, Ardizzone e direi Bortolussi che è comunque molto giovane tra l'altro 8 under si aggiungono tra gli altri o meglio tra gli altri gli ultimi 4 Sala 2001 Aurelio 2000 Coffi 2000 e Nanni 2000 caro Luca com'è? nel senso che effetto fa vedendo tutti questi ragazzini e come ci si comporta da ragazzo chiaramente molto più grande più maturo non vecchio perché 31 anni nel mio ruolo ancora assolutamente hai ancora 10 anni davanti è un'esperienza nuova perché è la prima volta in carriera che mi capita di essere non solo il più giovane ma fra i più giovani perché non è solo una questione di anni ma mi è capitato spesso giocare in squadre esperte beh è una sensazione di essere un po' il fratello maggiore almeno io mi pongo così sono un buono cerco di non essere rigido è chiaro che bisogna dare tempo a tutti ad esempio mi viene in mente Munari secondo me è una Ferrari Munari perché è un prospetto di assoluto valore però bisogna capire sempre chi sia davanti a un punto di vista caratteriale cioè non posso usare con tutti le stesse modalità faccio la battuta una Ferrari testa rossa vabbè esatto terribile siamo tanti giovani quindi l'aspetto bello che dal 3 agosto quando ho iniziato ho visto ho visto tanta tanta crescita ma soprattutto vedo un grande margine di crescita ho portato l'esempio di Munari perché secondo me il giocatore che più è cresciuto nell'ultimo mese e mezzo quindi è una sensazione particolare che però ovviamente nel calcio si va in questa direzione no perché soprattutto in Serie C bisogna capire che si cercherà tanto e spesso di far venire fuori i giocatori giovani quindi questa è un po' la direzione bisogna capire ecco tornando in grafica il Cesena lo scorso anno prima quindi il Cesena di fatto la rosa che ha chiuso in anticipo purtroppo la stagione 25.5 i 26 giocatori in rosa che hanno giocato l'ultima partita contro il Vicenza in casa quest'anno al momento con 19 giocatori l'età media di 23 in pratica aggiungendo il terzo portiere Bizzini che è il più giovane di tutti e di fatto è fuori lista ma è del gruppo Luca puoi confermare siamo addirittura sotto i 23 anni quindi 22.9 in modo anche questo è un dato molto significativo aspettando quello che avverrà accadrà e salterà fuori dal mercato qualche magari pillola qualche notizia perché alcuni ci hanno chiesto per capire un po' quello che potrebbe succedere questa settimana sicuramente la speranza di tutti è che l'età media si possa un pochino alzare perché l'obiettivo numero uno per la difesa ma anche un difensore centrale proprio a livello numerico e non solo è Mirko Drudi giocatore che come Ricci potrebbe chiudere o comunque tornare e chiudere il cerchio a Cesena attualmente però sotto contratto con il Pescara il giocatore ha già espresso da un paio di settimane la volontà al Pescara di voler tornare proprio come scelta di vita a casa con il Cesena l'accordo a livello anche economico e comunque di contratto c'è già manca solo naturalmente l'accordo tra il giocatore e il Pescara non dimentichiamo che Oddo allenatore degli abruzzesi lo ha fatto giocare insomma lo ha schierato dal primo minuto sabato contro il Chievo Drudi tra l'altro è stato al fianco di Scognamiglio altro ex migliore in campo praticamente quindi vedremo quello che accadrà da qui a lunedì prossimo è chiaro che questo è il primo obiettivo poi magari chissà che nella trattativa non possa rientrare anche qualche altro giocatore da Pescara insomma questo è da vedere poi Giovanni manca un terzino destro abbiamo detto tutti che insomma il primo nome sulla lista è questo spaltro del 2000 di cui si dice un gran bene guardando la partita di ieri dal centrocampo in su dove andresti invece a intervenire dove poveresti andrei sicuramente a intervenire nell'esterno alto d'attacco che si è visto in modo abbastanza evidente ieri da una parte sia perché Cappellini purtroppo per lui è stato costretto a giocare in un ruolo che non è suo e si è visto ecco più di tanto non poteva dare dall'altra parte anche Russini ha confermato secondo me un po' i limiti dello scorsano un giocatore che sicuramente a livello tecnico ha delle capacità degli spunti notevoli il problema che non riesce poi a spesso essere concreto a finalizzare queste sue giocate che spesso poi si risolve nulla di fatto teniamo conto anche che magari la condizione fisica di Russini non era ottimale ieri perché ha avuto qualche problema fisico durante la preparazione è stato infortunato e quindi un po' assaltato ma sicuramente questo è un ruolo che deve essere coperto ci sarebbe questo giovane Franco Ivoriano o Coffi si parla tanto bene ecco naturalmente è ancora tutto da vedere potrebbe essere sicuramente una grossa sorpresa però è ovvio che il Cesena andrà sul mercato per prendere un giocatore affidabile sicuro nel ruolo quello che senza riaprire un discorso già chiuso poteva essere Zerbini che sarebbe stato l'ideale come si è visto negli ultimi l'ultimo mese con Viale però sappiamo come è andato a finire che poi la curiosità di ieri della partita di ieri Luca dicevamo del cantiere Cesena dei lavori in corso del mercato in evoluzione ancora aperto guardando le soluzioni offensive proposte da Viali Cappellini una settimana di allenamento Russini tre allenamenti Bortolussi un paio Coffi uno Nanni poco di più insomma a parte Ardizzone e Peterman e Collocolo che comunque erano a centro campo davanti No ma questo giustamente rafforza il discorso che abbiamo fatto precedentemente cioè del punto guadagnato è una squadra di calcio è fatta anche di alchimia e di allenamento se non è inutile che stiamo tutti i giorni ad allenarci quindi volente o non lente vista la situazione i giocatori stanno arrivando stanno arrivando alla spicciolata perché sicuramente non si poteva fare di meglio perché è un calcio mercato atipico e così per tanti però giustamente sono cose da far notare perché poi quando si va in campo trovarsi anche soprattutto per i ragazzi che sono scesi in campo tanto di cappello perché soprattutto Cape ad esempio ha dato una mano in un ruolo non suo ma soprattutto il primo a saperlo è Viali che tra l'altro lo scorso anno l'ha utilizzato mi ricordo a Imola da mezzala è stato decisivo a Imola sicuramente sì e quindi tanto di cappello perché ha dato una mano si è sacrificato e ovvio ieri era una situazione in limite speriamo di non di non ritrovarci più e chiaramente andiamo incontro a una stagione piena di infrasettimanali quindi speriamo di avere sempre più giocatori possibili a disposizione se no saranno situazioni purtroppo nelle quali dovremmo lavorarci Fede un paio di domande poi ci fermiamo per la volta sì bel tema caldo del mercato l'avete appena affrontato un amico da Riccione intende sollevare la questione dello sciopero calciatori quale è il tuo parere in merito Luca? che giornate avete vissuto? allora partiamo dal presupposto quando si parla di sciopero e calciatori insieme non si fa mai una bella figura perché da un punto di vista mediatico siamo visti e siamo dei privilegiati però uno simolo avrebbe da considerare però parliamo di una categoria quella di serie C nella quale tanti ragazzi guadagnano 1500-2000 euro massimo ovviamente si guadagna anche di più però nella categoria bisogna pensare anche a queste situazioni qua ci si trova in un post-covid con 200 posti di lavoro in meno da un giorno all'altro si abbassa improvvisamente il livello tecnico perché comunque quando si obbliga a una rosa faccio un esempio il Padova non poter tesserare se vuole 40 giocatori 40 giocatori si tende ad abbassare il livello e quindi si arriva a uno sciopero o meglio non è uno sciopero è una forma di protesta per dire almeno da un punto di vista tecnico lasciamo libero spazio a chi vuole investire o perlomeno cerchiamo di evitare nel settore calcio in serie C perché non si parla di serie A, serie B di evitare il più possibile dei licenziamenti o comunque di lasciare persone a casa che spesso si trovano con famiglie muto come persone normali quindi capisco che come hai detto tu può essere un simolo mettere insieme sciopero e calciatore però la serie C è un po' un mondo a sé bene ancora un'altra ne abbiamo o ci fermiamo? ci fermiamo? ci fermiamo perfetto la covi lì per il finale a tra poco l'ultimo pit stop a tra poco qualunque sia il tuo prodotto e noi lo custodiamo lo coccoliamo lo rinfreschiamo lo proteggiamo lo prepariamo e lo consegniamo nelle mani dei tuoi clienti c'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere al lavoro nei momenti di svago e necessità è gruppo MaxiCart che grazie ai clienti che lo hanno scelto mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere prodotti in carta prodotti chimici accessori per pulire e servizi di igienizzazione dove c'è il gruppo MaxiCart c'è igiene eccoci qui pronti per la volata finale dobbiamo chiaramente mettere nel mirino la partita di domenica il debutto casalingo tra l'altro curiosità dal punto di vista del calendario stesso ordine dello scorso anno Virtus Verona prima e Triestina poi mi pare fu uguale dopo le prime due sconfitte guardiamo brevemente la grafica riguardante la Triestina che ha debutato ieri lo dicevamo in apertura con quello che è stato il risultato probabilmente più sorprendente Triestina Matelica 0 a 1 la prima storica tra i professionisti di quella che era l'avversario storico del Cesena due anni fa tra i dilettanti la conferma di Carmine Gautieri che venne assunto praticamente un anno fa dopo la negativa insomma ripresa dopo la promozione sfiorata in finale con il Pisa con Pavanel questi gli acquisti Ligi quindi un ex conosciamo bene l'altro ex ovviamente Granocce e non è un acquisto Rapisarda Struna insomma giocatori Rapisarda di categoria Struna ha fatto anche della Serie A con il Carpi attenzione a Petrella che l'anno scorso è stato killer del Cesena in casa quel bellissimo gol con la maglia del Suttirol abbiamo messo negli ultimi tre caselle Luca non so se sei d'accordo i piedi mancini migliori forse tra i migliori del campionato quelli di Lodi e Sarni e visto che ne ha fatti due l'anno scorso Gomez attaccante squadra di primissima assolutamente è una delle squadre da battere quindi non ci facciamo trarre in inganno dall'esortio anzi sarà un monito questo perché sicuramente non sbaglieranno non vorranno sbagliare la partita assolutamente sì è una delle squadre da battere hanno un allenatore esperto che io ho avuto in Serie Biavarese quindi prepara bene le partite gioca solitamente 4-3 quindi è una partita che si prepara da solo da un punto di vista motivazionale perché appunto è una squadra forte e strutturata fisicamente scorso anno forse fu la partita più bella tra l'altro in casa quella con la Tristina si prepara da sola si prepara però dicevamo con l'incognita chiaramente del tornare nel proprio stadio vuoto e è innegabile che un conto sia giocare negli stadio molto piccoli a porte chiuse tutt'altra cosa farlo a Cesena questo sarà lo scoprire lo scoprirete sì ci dobbiamo già preparare da adesso perché sicuramente non penso ci siano novità positive da qui da qui a domenica quindi speriamo anche di poter fare qualche allenamento al manuzio un attimo per riprendere anche le misure perché non è una cosa da sottovalutare questa e sicuramente la cornice sarà purtroppo diversa dal Cesena Triestina l'anno scorso che come hai detto tu è stata una delle partite una delle poche partite forse vibranti da un punto di vista emozionale della scorsa stagione è vero forse è stata la più bella in casa con la Tristina e la più brutta fuori casa con la Tristina se vogliamo insomma al di là dei risvolti tecnici e del cambio di allenatore Giovanni Triestina di primissima fascia siamo tutti d'accordo assieme a dicevamo il Padova guardando un po' i risultati magari li possiamo rivedere brevemente così riprendiamo anche confidenza con le varie squadre non è cambiato moltissimo il girone la novità Arezzo che torna dopo le battaglie visto che tra l'altro Luca è di quelle parti perché tu sei nato dico bene sono nato a Bibiena perché mia mamma è di lì mio papà lavorava è lì vicino esatto esatto quindi quello potrebbe essere il derby il Padova che torna è il Perugia naturalmente la blasonata che torna come la situazione del Perugia sulla carta sicuramente una squadra come il Perugia essendo in Serie C non per starci più di un anno poi naturalmente si vedrà con il campionato la Triestina sicuramente ha commesso questo passo falso dovrà sicuramente in qualche modo rimediare se il Cese naturalmente dopo una settimana in più anche le altre squadre naturalmente andranno ad assestarsi ad assemblarsi meglio può darsi che anche a Triestes non so come è messo l'organico possa arrivare nuovi elementi soprattutto anche gli avversari avranno una settimana in più di allenamento dopo quest'estate che è stata anomala per tutti quindi naturalmente rimane un po' un incognito naturalmente ripete la partita dell'anno scorso sarebbe l'ideale l'anno scorso prima citavi Virtus Verona Triestina arrivarono sei punti quest'anno sicuramente non potranno arrivare sei punti però si può accontentare anche dovessero arrivarne tre domenica esatto quattro andrebbero bene allo stesso nel dubbio va bene un campionato un girone Luca che assomiglia un po' a quello dell'anno scorso ci sono tutte le incognite di qui sopra però comunque affascinante affascinante per le piazze che ci sono e perché secondo me ci sono squadre notevolmente rinforzate rispetto all'anno scorso nessuno ne parla ma secondo me il Modena sarà un'altra squadra da battere perché ha elementi di esperienza ha i giocatori giusti e sarà una delle squadre da battere io inserisco sempre anche un po' il sud tiro perché è sempre la scheggia impazzita ogni anno della Serie C e chi la conosce bene sa che difficilmente sbaglia sbaglia stagione poi speriamo che ci sia una grossa sorpresa cerchiamo di non nominarla certo e ci fermiamo assolutamente condivido questo messaggio leggo filo per segno e comunque arriva mio figlio 16 anni sta seguendo la nostra diretta ascolta un po' e mi dice ma babbo sto appunto ascoltando Ricci da tempo non parla come i calciatori che vanno di solito in tv lui parla molto bene e in italiano corretto per cui complimenti a Luca grazie salutiamo il nostro amico Aghi grazie mia mamma sarà contenta questo è esatto una grande soddisfazione fra un po' 5-6 esami e la laurea ma allora si sentono dai si sente quindi a che punto siamo 6 meno 6 meno 6 beh in cosa c'è un obiettivo scienze politiche sì fra un po' i capelli bianchi infatti mia mamma tutti i giorni mi ripete quando dà gli ultimi esami però un attimo la scusa speriamo del lockdown dovresti essere stata già giocata sì no due esami li ho dati quindi però dai complimenti ci stiamo avvicinando grazie per il complimenti bene 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 allora siamo in chiusura calciatore misterioso sì chi ha vinto diciamo il nome andiamo a rivedere un attimo la scheda con gli indizi li vediamo la scheda insieme ecco la carta di identità tu Giovanni hai indovinato? non conosco la risposta ti metto ah ok ok ti ho messo in difficoltà perfetto una volta tanto capita e abbiamo voluto premiare la doppietta di sabato con la maglia del Benevento un giocatore che qui non ha lasciato tracce indimenticabili Luca Caldirola è stato indovinato vice campione d'Europa con Davis Mangia l'ultima Under 21 che è andata sul podio prima dei capolavori di Di Biagio chi ha vinto? ha indovinato un amico da Bologna Andrea Cavacini complimenti da Bologna la Bologna la Bologna arriverà la nostra sciarpa si eccola qui bellissima ecco quella morbidosa perfetto a Bologna se la gode a Bologna se la gode si in centro si poi pronostico perché ovviamente ripartiva il nostro gioco pronostico riguardante ovviamente la partita di ieri punteggio e marcatore per quel che riguarda naturalmente il Cesena il vincitore è Alessandro Boschi per lui pista e birra dai nostri fantastici amici del Rugantino molto bene poi riapriremo a brevissimo anche naturalmente il nuovo pronostico tempo fino a sabato alle ore 15 a 24 ore dalla partita di domenica appunto contro la Tristina risultato e marcatori Cesena questo naturalmente su Facebook abbiamo altro abbiamo altro abbiamo Rodolfo d'attore del Moro che gira questa voce ma è vero che andrai alla prossima edizione di Temptation Island chi? Ricci? ma tu Luca Alberto Montanari Rodolfo è il nome o il cognome? il nome è il nome Rodolfo d'attore del Moro che conosce anche Temptation Island non penso pensavo di no sinceramente l'anna cosa dici? salutiamo anche l'amico Rodolfo che è a casa e vabbè abbiamo chiuso non ho capito la risposta no non credo non penso poi vediamo cosa accade ciao Rodolfo salutiamo Rodolfo salutiamo ovviamente Luca Ricci grazie è stato un piacere abbiamo sbragato alla fine grazie Giovanni Guiducci grazie a voi dell'invito poi ci rivedremo naturalmente con il trascorrere del campionato Fede noi l'appuntamento Luca sì grazie per lunedì prossimo l'appuntamento con voi ovviamente è per domenico ore 22.30 con la differita della prima partita in casa contro la Tristina e poi naturalmente tra una settimana e avremo anche tutte le ultime novità di calcio mercato perché il mercato terminerà di fatto un'ora prima dell'inizio della trasmissione grazie e buona serata ciao a tutti grazie SAC Petroli SAC Petroli costo prezzo prezzo da gustare e scoprire ogni giorno Centrale del Latte di Cesena il buono della tua terra grazie a tutti grazie a tutti